Ciao a tutti e bentrovati in questo nuovo video. Oggi parliamo di elettrostimolazione e di come applicare correttamente gli elettrodi sulla coscia. Parliamo del muscolo quadricipite e ho scelto per te una proposta di applicazione molto semplice, molto neutra, perché andiamo a toccare tutti i muscoli fondamentali della coscia con 4 elettrodi piccoli, di quelli quadrati che li fanno 4x4 o 5x5 in base a quelli che tu trovi sul mercato. Per quanto riguarda la scelta degli elettrodi, se non sai quali ad acquistare, giù in descrizione trovi tutto quello che ti può servire, con i vari articoli anche nel blog che saranno di sicuro a te molto utili. Per quanto riguarda questo video, io dico sempre una cosa importante. Quando si applicano gli elettrodi sul muscolo bersaglio e poi si fa partire la macchina, cerchiamo di fare dei test affinché si riesca a percepire al massimo l'attivazione muscolare. Quindi io applico gli elettrodi, faccio partire il programma, se percepisco che il muscolo non reagisce come vorrei, come magari mi aspetto, ecco è bene magari spostare per aggiustare un po' il tiro ed essere perfetti nell'applicazione e quindi far partire il programma per quella che è la sua durata, perciò può durare 30, 40, 50 minuti. Ecco, se il muscolo lavora bene ovviamente sarà più efficace, se il muscolo non si percepisce, a quel punto vuol dire che qualcosina non funziona. Nel caso in cui fossero sporchi o vecchi gli elettrodi, ecco è bene sostituirli, perché magari perdono aderenza e non c'è più il passaggio corretto della corrente per l'appunto. Detto questo io vi aspetto tante e numerose affare e tre cose, lasciare un bel like, mettere nei commenti qualsiasi vostra osservazione e poi iscrivervi al canale cliccando sulla campanellina. Per chi volesse una consulenza personalizzata basta scrivere a www.fitness.gmail.com che riguarda elettrostimolazione o personal training. Detto questo ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie a tutti.